Una serata interamente dedicata alla raccolta fondi per le popolazioni terremotate del centro Italia e una amatriciana solidale. Questa l'iniziativa in programma per la serata di giovedì 15 settembre alle ore 20 e 30 presso i locali della palestra comunale di Albosaggia in via Coltra 43. L'idea è frutto di una vera e propria cordata umanitario-benefica e porta la firma di Coldiretti, Corpo degli Alpini, Agricoltori e Allevatori, oltre che delle latterie di Livigno, Chiuro e Delebio, della cooperativa Melavì ed il supporto mediatico di TSN. I principali collaboratori sono stati le cooperative agricole della provincia a cominciare da Delebio, Chiuro, Livigno e la cooperativa Melavì. Abbiamo inoltre avuto il sostegno di altre aziende anche private, ad esempio la New Farm di Dubino a cui c'è stato donato il filo per le recinzioni con i dovuti paletti per elettrificare i recinti per gli animali, visto che i colleghi delle Marche ci segnalavano la necessità di queste attrezzature. Peraltro abbiamo l'impresa Rigamonti che si è messa disponibile ad inviare nelle Marche una squadra con le attrezzature per fare degli interventi specifici su un'azienda agricola che poi i colleghi riterranno pertuno. Nel solo territorio di Amatrice il 90% delle stalle risultano essere danneggiate da crolli che hanno provocato molte morti fra gli animali in un'area in cui viene stimata la presenza di 2.800 pecore e 3.000 mucche. A mancare, nell'attuale, sono i ripari per i capi di bestiame, l'acqua potabile, i mangimi e poi generatori di corrente, refrigeratori, carrelli per la mungitura, pali e filo elettrificato per le recinzioni. La solidarietà di Coldiretti è sempre in prima linea purtroppo quando ci sono questi eventi. Avendo sentito i nostri colleghi della zona e essendoci resi conto che anche loro hanno subito dei danni gravi e ingenti, l'ora Coldiretti Sondro si è messa a disposizione per organizzare un evento sul territorio per la raccolta fondi indirezzata proprio al recupero delle aziende agricole colpite dal terremoto. In una prospettiva futura, tutt'altro che rosea per questo settore produttivo, già minato da altre problematiche precedenti al sisma dello scorso 24 agosto, sarà decisiva la partecipazione e la solidarietà non solo degli addetti ai lavori, ma di tutti. Lanciamo allora un appello ai partecipanti di questo accenevento che ricordiamo sarà esclusivamente finalizzato a una raccolta fondi per una giusta causa. Beh, venite in molti, è importante. Quando ci furono le calamità in provincia di Sondrio ci fu molta solidarietà nei nostri confronti, altrettanto noi dovremmo fare per queste persone, quindi vi aspettiamo in molti. Qui voglio anche ringraziare chi ha collaborato con noi, tutti quelli che ci daranno i prodotti per proprio organizzare questa cena, quindi vi aspetto numerosi giovedì prossimo. Valtellina e Amatrice, unite dalla solidarietà, il 15 settembre ad Albosaggia.